bentornato gutier bentornata andiamo a vedere la sezione accessibilità del pannello dell'impostazione di windows 10 questa sezione ti permette di gestire dei settaggi per migliorare l'accesso e l'uso del sistema operativo a persone con presenza di disabilità ed anche per le nostre necessità o piacere come accedi dal pulsante start vai ad individuare l'icona ingranaggio e nella nuova finestra clicca su accessibilità assistente vocale lente di ingrandimento contrasto elevato sottoditoli tastiera mouse ed altre opzioni nella prima sottosezione trovi dei cursori ti consentiranno di attivare o meno automaticamente la lettura dei testi o elementi sullo schermo tramite l'assistente vocale potrai selezionare o una voce maschile o una femminile la sua tonalità velocità e pausa di intonazione altri cursori ti consentono di far leggere anche i suggerimenti per i controlli o pulsanti da parte del sistema operativo oltre quelli che normalmente sono presentati a video e anche caratteri o parole da te digitati durante la scrittura di un testo ancora potrai attenuare il volume delle applicazioni in esecuzioni quando l'assistente vocale dovrà comunicare qualcosa o anche abilitare o meno la riproduzione di segnali acustici provenienti dal sistema operativo tutto tramite dei cursori ulteriori cursori ti permetteranno di evidenziare con un rettangolo a bordi colorati dove cliccherai col puntatore del mouse oppure attivare i tasti della tastiera virtuale se sollevi le tita dalla tastiera questo con la possibilità di un touchscreen qui una rappresentazione molto sintetica di quanto appena esplicato quest'ultima opzione sarà valida in caso di display touchpad per permetterti di scrivere parole strisciando sul display semplificando così la scrittura senza premere di volta in volta ogni singolo tasto la seconda sottosezione è relativa alla lente di ingrandimento con una percentuale che potrai variare in base alle tue necessità percentuali di ingrandimento naturalmente scegliendo anche il tipo di visualizzazione con la mini finestra che ti comparirà avrai o lo schermo intero con ingrandimento di tutto il desktop che diverrà mobile naturalmente e con una visione parziale della sola sezione dove passa il mouse oppure potrai avere il desktop normale ma con la creazione di un rettangolo che va ad ingrandire soltanto la porzione di desktop dove passa il mouse o infine se avrai il desktop ancorato ma con una creazione in alto di un rettangolo dove avrai la visione ingrandita della zona dove passerà il mouse questa opzione vedremo meglio nella zona pratica i cursori presenti attivano meno anche in maniera automatica la lente di ingrandimento per rendere migliore la lettura dei caratteri inoltre potrà invertire i colori dello schermo nella zona ingrandita per migliorare il contrasto d'impatto per la visione puoi anche abilitare la zona da visualizzare sia quella dove si trova il puntatore la parte del desktop se eventualmente è mobile oppure far sì che venga seguita la tassiera oppure dove si trova il cursore durante la digitazione di un testo disinteressandoti della posizione del mouse in quanto la posizione dove andrai a digitare il testo sarà quella più importante dove dovrà essere ingrandita la sezione a prescindere da dove è posizionato il mouse la sottosezione contrasto elevato permette di gestire il contrasto dello schermo del testo dei collegamenti ipertestuali del testo selezionato dei pulsanti mostrati o dello sfondo per migliorare la visione potrai anche personalizzare i colori di tale impostazioni e salvare così questo tema con un tuo specifico nome hai a disposizione un menu a tendina con cui otterrai il tipo di contrasto in base alle tue esigenze menu a tendina che si crea in questa sezione la sottosezione sottotitoli ti permette naturalmente di impostare parametri relativi ai caratteri dei sottotitoli in una finestra anteprima potrai visionare le impostazioni che man mano effettuerai sono molti parametri che potrai scegliere per la tipologia di carattere avrai il colore del sottotitolo la trasparenza dello stesso lo stile del sottotitolo le dimensioni del carattere e gli effetti del sottotitolo per lo sfondo e la finestra avrai il colore dello stesso la trasparenza del fondo il colore della finestra la trasparenza della finestra tutti a tipo menu a tendina qui hai l'anteprima che ti permetterà di visionare ciò che di volta in volta andrai a selezionare da questi menu a tendina nel caso volessi tramite un pulsante dedicato potrai ripristinare il tutto a valori predefiniti la sottosezione tastiera porta in visione il tastierino virtuale sul desktop il cursore tasti permanenti consente di premere uno alla volta i tasti di scelta rapida ma sulla tastiera reale in modo da poter utilizzare anche un solo dito alla volta i tasti permanenti sono tasti o combinazioni di tasti che ti permettono di eseguire delle operazioni in maniera più rapida operazioni che normalmente faresti con il mouse il tipo copia incolla contro c o contro v verranno abilità di anche altri cursori per la gestione di altre impostazioni relative tasti attivare o disattivare i tasti permanenti premendo cinque volte di seguito il tasto maiuscolo oppure potrai bloccare l'azione del tasto modifica premendolo due volte di seguito o ancora disattivare i tasti permanenti che avevi abilitato premendo un tasto qualsiasi mentre rilasci il tasto di modifica o infine riprodurre un suono quando il tasto modifica viene premuto o rilasciato questo tutto tramite dei cursori un cursore abilita un segnale acustico ogni volta si preme uno dei tasti bloc maiuscolo bloc num o bloc score poi un nuovo cursore permette l'attivazione o disattivazione di questa ulteriore funzione tenendo premuto per cinque secondi il tasto bloc num la presenza del cursore filtro tasti consente di ignorare o rallentare la pressione dei tasti se ripetuta velocemente e adattare la velocità di ripetizione in base alle necessità dell'utente con nuovi cursori che si creano può impostare altri filtri attivare o meno i filtri premendo per otto secondi il tasto maiuscolo oppure attivare un segnale alla pressione di ogni singolo tasto visualizzare l'icona dei filtri nella sys tray variare il tempo di pressione dei tasti della tastiera reale per l'acquisizione del carattere con un tempo variabile tra i 0 e i 20 secondi quindi lo 0 per una visualizzazione immediata subito dopo la pressione del carattere oppure 20 secondi porterà alla visualizzazione del singolo carattere o della singola opzione dopo un tempo molto ampio pari a 20 secondi il cursore abilita velocità di ripetizione permette di variare il tempo affinché mantenendo premuto un tasto il sistema ripeta lo stesso con un tempo variabile tra i 0 e i 2 secondi valori che sono selezionabili sia per la prima pressione del tasto oppure per le successive pressioni quindi avrai due possibili scelte altre impostazioni ti consentono di abilitare la sottolineatura dei tasti di scelta rapida la visualizzazione di un messaggio quando si attiva un'impostazione tramite uno dei tasti di scelta rapida oppure generare un segnale acustico nello stesso caso qui una rappresentazione molto ampia dei cursori con i quali andrai ad interagire la sottosezione mouse ti consente di scegliere le impostazioni del puntatore del mouse come le sue dimensioni del suo colore ma anche utilizzare le frecce del tasserino numerico se presente in alternativa all'uso del mouse per poter spostare il puntatore sullo schermo senza utilizzare il mouse ma grazie alle frecce che sono presenti nello specifico sui tasti 2468 del tastierino numerico la velocità dello stesso in questo caso potrà essere variata o con il tasto control o con il tasto maiuscolo rispettivamente per incrementare o rallentare il movimento del puntatore sul monitor infine il cursore in basso abito meno il controllo del puntatore premendo il tasto block numer per una sua attivazione o per una sua disattivazione l'ultima sottosezione offre opzioni visive potrai abilitare o meno la riproduzione di animazioni del sistema operativo la possibilità di visionare o meno lo sfondo di windows o il tempo della durata delle notifiche inoltre lo spessore del cursore lampeggiante tramite una barra scorrevole che andrà a incrementare lo spessore del lampeggio del cursore quando andrai a digitare un testo infine la tipologia dell'avviso delle notifiche se vorrai il sistema operativo potrà catturare la tua attenzione per una notifica o attivando ad intermittenza la barra del titolo o la finestra attiva o addirittura il lampeggio dell'intero schermo come vedi una quantità disparata di impostazioni che nascono in primis per persone che presentano difficoltà di accesso ed interazione col pc ma che possono benissimo tornare utile a tutti in taluni casi per completezza di segnalo alcune guide microsoft per la spiegazione di alcune sezioni trattati in questa sezione introduzione all'assistente vocale lettura del testo tramite lo stesso usare la lente di ingrandimento e tassi di scelta rapida link che troverai nelle note dell'episodio bene gutier eccoci in zona pratica andiamo subito a vedere la sezione impostazioni e quindi accessibilità da questa sezione trovi alcuni cursori che ti permetteranno di attivare l'assistente vocale e decidere se avviarlo automaticamente all'avvio del sistema operativo nel momento in cui si attiverà l'assistente vocale avrai subito la reazione della sua voce in base alla voce che avrai selezionato se maschile o femminile finestra impostazioni attivato assistente vocale interruttore come puoi vedere l'interruttore è contornato da un rettangolo colorato per migliorare la visione al passaggio del mouse ad una nuova sezione subito immediatamente interagirà l'assistente vocale chiudiamo l'assistente vocale altrimenti la sua voce si sovrapporrà alla mia tramite questi cursori andrà ad impostare la velocità della voce e la tonalità cercando di migliorarla e renderla più umana se vogliamo tramite questo cursore potrai decidere se attivare le pause di intonazione durante la parlata dell'assistente vocale altri cursori ti permetteranno di gestire l'azione dell'assistente stesso se attivo questo cursore avrai la possibilità di far leggere anche i suggerimenti o i controlli presenti sui pulsanti dall'assistente vocale o ancor meglio poter sentire i caratteri che digiterai o le parole che digiterai durante l'elaborazione di un testo tramite questo potrai decidere se attivare o meno l'abbassamento del volume qualora il sistema sta già riproducendo un suono ad esempio stai ascoltando una canzone se attivo questo cursore nel momento in cui l'assistente vocale dovrà chiacchierare con te il volume della musica automaticamente si abbasserà tramite questo cursore potrai decidere se far riprodurre i segnali acustici del sistema operativo ancora la sezione cursore tasti ti permetterà di evidenziare il puntatore del mouse come abbiamo visto prima all'atto dell'attivazione in questa sezione quindi comparirà un rettangolo colorato che ti permetterà di evidenziare la posizione del puntatore oppure far sì che il punto di inserimento di un testo o del click del mouse segua l'assistente vocale tramite quest'ultimo cursore avrà la possibilità di attivare i tassi della tassiera virtuale quando sollevi le dita dalla stessa questo è utile quando utilizzerai un display touchscreen che ti permetterà di scrivere un testo semplicemente strisciando sui vari caratteri senza andare a digitare il singolo carattere altra sottosezione la lente di ingrandimento ti permetterà di attivare la stessa in questo momento oppure anche all'avvio del sistema operativo e anche invertire colori durante l'ingrandimento selezioniamo questo cursore per far apparire la lente di ingrandimento potrai decidere tramite una piccola finestra con dei pulsanti più o meno che ti permetteranno di incrementare o decrementare la percentuale di ingrandimento scegliere anche il tipo di visualizzazione in questo caso a schermontero e avrai l'opportunità di andare ad individuare la zona da ingrandire in base alla posizione del mouse quindi seguendo la traccia dello stesso potrai anche andare a selezionare invece la lente di ingrandimento solo in una sezione quindi a schermo normale potrai visionare e andare incrementare la sezione da ingrandire grazie alla lente di ingrandimento come ultima possibilità di visualizzazione c'è il pulsante ancorato che ti permetterà di bloccare il desktop e andare a visualizzare tramite un rettangolo in alto solo la zona dove sarà posizionato il mouse disattiviamo momentaneamente la lente per una miglior spiegazione questo cursore ti permetterà come abbiamo visto prima andare ad inseguire la zona di ingrandimento dove è posizionato il mouse oppure potrai decidere che venga seguita la tassiera durante la digitazione oppure il punto di inserimento del testo mentre stai componendo un testo andiamo a ripristinare il tutto la sezione contrasto elevato andrà a permettere di scegliere quale contrasto impostare in base alle necessità di visualizzazione e potrai scegliere i vari colori del testo collegamento ipertestuale testo disattivato selezionato e fin anche a personalizzare la tua scelta in base al tuo piacere una volta che avrai scelto le impostazioni l'applicazione prevede l'inserimento di un nome di questo tema personalizzato per poter essere richiamato con semplicità annulliamo questa selezione la sezione sottotitoli ti permette di andare a impostare alcuni parametri relativi a carattere sfondo e finestra qui in anteprima delle impostazioni che man mano andrai ad impostare per il colore del sottotitolo la trasparenza dello stesso lo stile le dimensioni e gli effetti andando semplicemente ad impostare un parametro di tuo piacere nota che in tali casi potrà essere anche molto difficile da visualizzare in base alle impostazioni che andrai a scegliere quindi occhio a scegliere dei parametri abbastanza equi la sottosezione sfondo e finestra andate interagire con il colore dello sfondo la trasparenza il colore della finestra o la trasparenza della finestra stessa se non ricordi come ha impostato vorrei ripristinare il tutto ai parametri predefiniti clicca su questo pulsante la sottosezione tassiera andrà tramite dei cursori a interagire con i parametri relativi alla tastiera cliccando qui potrai scegliere di far visionare una tastiera virtuale con il quale potrà andare interagire il pulsante ancora ti permette di ancorare la tastiera a prescindere della posizione del mouse oppure renderla mobile e posizionarla tu in base le tue necessità il cursore tasti permanenti abilita altri cursori e ti permetterà di impiegare uno alla volta i tasti di scelta rapida che sono i tasti che ti permetteranno di creare opzioni dalla pressione di più tasti e funzionalità ben definite dallo stesso qui ti posso rappresentare tramite il tastierino virtuale cosa significa questa opzione ma sappi che in questo caso specifico il tastierino già è preconfigurato per poter premere uno alla volta i tasti potrai anche attivare o meno i tasti permanenti semplicemente premendo il tasto maiuscolo ossia questo per cinque volte oppure bloccare il tasto modifica con due pressioni di seguito del tasto relativo oppure disattivare i tasti permanenti rilasciando il tasto modifica premendo contemporaneamente uno dei tasti magari della tastiera potrai anche riprodurre il suono quando viene premuto il tasto modifica oppure venisse bloccato rilasciato e visualizzare l'icona dei tasti permanenti nella barra delle applicazioni come puoi vedere cliccandoci sopra aprirai la sottosezione che ti permette di scegliere tramite dei segni di spunti a quello che di fatto sta eseguendo in questa sezione chiudiamo la tastiera virtuale potrai anche decidere di udire il segnale acustico quando premi uno di questi tasti e attivare il segnale acustico anche quando viene premuto il tasto block loom come puoi ben sentire altra sezione con diversi cursori e quella dei filtri di tasti che va a poter impostare il rallentamento o meno della pressione dei tasti durante una ripetizione quindi se dovrai ripetere il tasto che avrai premuto per n volte potrai anche attivare la sezione filtri tenendo premuto per 8 secondi il tasto maiuscolo oppure udire un segnale acustico alla pressione di un singolo tasso della tastiera reale come puoi sentire o visualizzare l'icona filtri nella barra delle applicazioni nella sys ray anche qui presente cliccandoci sopra potrai interagire con dei segni di spunta cosa che già stiamo facendo in questa sezione alta possibilità abilitare il tempo di pressione dei tasti qui puoi abilitare delle tempistiche relative al tempo oltre il quale avrai visionato durante la digitazione di un tasto il carattere che andrai a premere con un tempo variabile tra i 0 3 e 20 secondi che cosa significa che se andrai a premere un tasto su una tastiera in questo caso specifico quel carattere sarà visionato dopo un secondo fino a un valore massimo di 20 secondi oppure potrai decidere che una volta premuto il tasto la prima volta o le successive volte questo tasto verrà ripetuto per un certo numero di volte affinché tu tieni premuto questo tasto sulla tastiera con tempi variabili tra i 0 3 e i 2 secondi altre impostazioni sono relative alla abilitazione della sottolineatura dei tasti di scelta rapida oppure alla possibilità di visualizzare un messaggio attivando un'impostazione tramite i tasti di scelta rapida oppure un segnale acustico all'attivazione o la disattivazione dei tasti di scelta rapida disattiviamo queste opzioni ripristinando tutto come era precedenza andiamo alla sottosezione mouse che ti permetterà di scegliere le dimensioni del puntatore che come vedi variano in tempo reale oppure il colore del puntatore se bianco nero o con una trasparenza in base alle tue scelte il controllo di puntatore ti permetterà di utilizzare il tastierino numerico presente sulla tastiera qualora fosse presente spostando il puntatore del mouse senza utilizzare il mouse ma grazie alle frecce presenti sui tassi 2 4 6 8 e poter decidere di utilizzare il tasto contro per accelerare la variazione e lo spostamento del cursore sul monitor e invece rallentare tramite il pulsante maiuscolo potrai anche abilitare o meno il controllo del puntatore tramite il tastierino numerico premendo il pulsante block num per la sua attivazione o disattivazione a prescindere da questo cursore infine altre opzioni ti permetteranno di riprodurre o meno le animazioni di windows oppure mostrare lo sfondo dello stesso o decidere il tempo affinché la notifica rimanga presente sul monitor con tempo variabile tra i 5 secondi e i 5 minuti tramite questo cursore potrai decidere di incrementare lo spessore del cursore stesso che lampeggerà quando digiterai un testo tramite un elaboratore di testo ed infine tramite questo menu a tendina potrai decidere di far visionare le notifiche a schermo o lampeggiando la barra del titolo oppure la finestra che sarà attiva in quel momento o addirittura facendo lampeggiare tutto lo schermo in modo da capire la tua attenzione come puoi vedere un'enorme quantità di impostazioni verosimilmente tramite dei cursori ma che ti permetteranno di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema operativo windows 10 a persone che presentano disabilità bene nella prossima lezione nuove informazioni per windows 10 ora come sempre un forte saluto già presto da gallo e dalla prossima